Un marchigiano su quattro e un fumatore. Per ridurre questo numero, per tutelare la salute e l'ambiente, il Consiglio regionale ha appena approvato all'unanimità una nuova legge contro il tabagismo. Cesarina Trillini. La creazione di centri antifumo attraverso l'Agenzia Sanitaria Regionale per accogliere i fumatori pentiti che vogliono smettere. Il divieto di accendere la sigaretta anche all'aperto, in prossimità di ospedali, ambulatori, residenze protette. Una campagna per incentivare l'uso dei posascenere personali ed evitare così i troppi mozziconi a terra. Eccoli i cardini della nuova legge contro il tabagismo appena approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Questo è un problema molto serio e ha a che fare con la salute pubblica ma anche con la spesa pubblica perché il costo che c'è dal punto di vista sociosanitario per questa patologia e anche dal punto di vista ambientale per l'abbandono delle cicche in tutti i posti, questi rischi e questi costi alla fine impattano sulla sanità e sulla spesa pubblica. Sul fatto che sia dannoso ormai c'è ben poco da aggiungere. Si stima che in tutto il mondo un decesso su dieci sia legato al fumo. Per non parlare di cosa c'è dentro. Nel fumo di una sigaretta sono state identificate 3600 sostanze differenti, tossiche, da idrocarburi poriciclici a sostanze volatili, ad arsenico, a nickel e perfino sostanze radiattive come ad esempio il polonio che viene usato nella coltivazione del tabacco. Ormai da anni il numero di fumatori è in discesa ma non quello delle donne che invece è in costante aumento. In calo ma sempre molto preoccupante il dato sui giovani. Il 14% inizia a fumare prima di 15 anni. Anche a loro si rivolge la nuova legge. C'è una necessità di evitare l'iniziazione dei nostri giovani al fumo che viene fatta molto spesso per una pressione sociale perché ci sono modelli sbagliati anche nei film, nei telefilm dove il fumo è qualcosa di figo. Ecco dobbiamo far capire che non c'è nulla di figo nel fumo. I pericoli della rete, in particolare i cyberbullying,